La birra bavarese dal cuore italiano con una storia antichissima dal medioevo che produciamo birra è stata poi comprata la proprietà nel 1862 dalla nostra famiglia e quindi da più di 150 anni che come famiglia italiana produciamo birra in Germania e da tre anni che siamo presenti in Italia. È la terza volta che siamo ospiti qui alla Beer Attraction a Rimini una bella occasione di incontrare distributori e nuovi distributori e molti clienti che ci vengono a trovare. Abbiamo portato otto birre diverse, otto birre diverse che spigliamo qui abbiamo la gamma diciamo classica bavarese che comincia dalla Export va alla Vice, abbiamo una Scura, abbiamo birre a doppio malto. Per quest'anno presentiamo una novità è la nostra Red una birra rossa doppio malto Red sta appunto per rossa estrema doppio malto una birra che abbiamo studiato per il mercato italiano perché c'era questa richiesta è una birra interessantissima ha quasi 20 gradi plato e fa 8 gradi e mezzo di alcol che non si sentono è beverina da morire bisogna stare attenti a non verne troppa Un'altra novità che portiamo in Italia quest'anno sono i nostri fustini da 10 e 15 litri a caduta che hanno anche l'attacco a scivolo se avete voglia ne spigliamo uno subito sullo esatto gli stai